Sono passati esattamente 50 anni da quando venne servita la prima pasta asciutta alla mensa dei bambini proletari nella primavera del 73. Ogni giorno, puntuale a luna, alla porta del centro di Vico Capucinelle scalpitavano centinaia di bambini del quartiere di Montesanto di Napoli. Cibo per il corpo e per la mente. Oltre alla tavola imbandita, i piccoli partecipavano a numerosi laboratori e attività, dalla pittura alla fotografia alla musica. Un progetto politico da sinistra tra i più significativi e fattivi mai realizzati sotto il Vesuvio, basato su una forma di crowdfunding, antilitteram e volontariato. La mensa partorì anche un centro antifascista, un centro medico, ricordiamoci che quelli erano gli anni del colera, e una scuola di musica popolare. Quell'esperienza è stata ricordata nel corso di un'iniziativa al centro Ciro Colonna di Ponticelli, con uno dei fondatori, Geppino Fiorenza, oggi presidente dell'associazione Giancarlo Siani. Dalla storia della mensa a tutte le cose che sono nate, lo facciamo non solo qua a Ponticelli, l'esperienza di Cucinapoli Est, guardate su Facebook Cucinapoli Est, siamo in diretta live di Radio Siani e lo facciamo per le future generazioni anche, quelle più così così più grandi, quelle più piccine ancora, perché quello che avevamo detto è costruito nel passato, dobbiamo farlo andare avanti per il futuro. Grazie.